buongiorno a tutti allora dopo la scorpacciata di forze conservative vediamo due esempi di forze non necessariamente conservative uno decisamente non conservativo le forze viscose e uno che ogni tanto è conservativo però quando è interessante quando non lo è allora le forze viscose sono quelle che vedremo in questa lezione sono forze dipendenti dalla velocità che hanno la caratteristica di spendere sempre di aver sempre potenza negativa quindi di sottrarre energia dal sistema e va beh sono un esempio tutto sommato collaterale però si usano si usano parecchio perché rappresentano un pochino il modello più semplice che si può fare di resistenza di un mezzo come l'aria un liquido che di per sé possono essere molto complicati e perché c'è uno dovrebbe sviluppare tutta la dinamica dei fluidi per cercare di capire quale sia la forza di attrito che agisce su un certo oggetto del quale la quale poi può dipendere dalla forma dell'oggetto noi prenderemo oggetti puntiformi però diciamo c'è tutta una teoria che si sviluppa un pochino nell'ambito della fluidodinamica in questo senso qua noi non la vedremo si fa in meccanica dei continui o in fluidodinamica e però qualche così non di carino si può dire per esempio come viene perturbata la situazione galileiana quella del moto dei gravi e nella lezione successiva invece vedremo le oscillazioni oscillazioni sono un esempio l'oscillatore armonico è come sapete conservativo però se ci aggiungete un po' di attrito ma soprattutto se ci aggiungete una forza variabile nel tempo e le oscillazioni come si dicono forzate allora non è più conservativo perché le forze dipendenti dal tempo non sono conservative in generale e lì succedono delle cose interessanti va bene questo ne parleremo nella prossima lezione adesso andiamo a vedere la definizione e qualche proprietà delle forze viscose iniziamo con una definizione ma supponiamo di avere un campo di forze vettoriale si dice viscoso o di forze viscose o anche a volte dissipativo anche se dissipativo può essere riservato a qualche cosa di un po' più generale se succede che su ogni punto diciamo così se esiste un riferimento inerziale nel quale su ogni punto di un sistema meccanico la potenza sul moto reale è sempre strettamente negativa cioè se prendo la forza agente sul punto che può dipendere quindi dal tempo dalla posizione e dalla velocità e moltiplico scalamenti per la velocità questo è minore di zero per ogni v diciamo per ogni t tale che v di t è diverso da zero cioè quando la velocità è diversa da zero la potenza è sempre negativa chiaramente quando la velocità è zero la potenza è nulla ecco questa qui è la definizione diciamo più generale che ci può servire un tipo particolarmente semplice di campo vettoriale di questo tipo di viscoso è una forza che diciamo ha un modulo che dipende dal modulo della velocità e poi è diciamo così moltiplicato per la velocità quindi è sempre diretto come la velocità con f evidentemente negativa perché se io faccio f scalare v questo mi viene f di modulo di v per il modulo di v al quadrato e quindi se questa quantità deve essere minore di zero se v diverso da zero vuol dire che f di modulo di v f di xi deve essere strettamente minore di zero dopo che cosa faccia in zero non importa perché tanto a quel punto la potenza è zero quindi per esempio come sotto esempio il caso più semplice di tutti è la forza in cui f diciamo così se f di xi è costante è uguale a meno lambda allora abbiamo la forza viscosa più semplice di tutte f uguale a meno lambda v che viene usata molto spesso un'altra che viene usata spesso è quella con lambda con f di xi uguale a meno lambda xi quindi di fatto da origine si usa in aerodinamica da origine una f di v uguale a meno lambda modulo di v per v ecco in cui il modulo praticamente di f della forza è proporzionale al quadrato del modulo della velocità e poi c'è il segno meno che serve a dare la dissipatività allora vabbè questi campi di forze possono essere molto generali noi considereremo solo il caso di un punto materiale libero se ci sono vincoli poi vabbè si aggiungono ma questo non è non è propriamente l'attrito alcuni lo modellizzano come attrito dinamico però è più una forza che dovete pensare per il fatto che il punto è immerso in un fluido come l'aria che ha una certa viscosità oppure pensate a un astro, un asteroide che sta attraversando una zona dove ci sono delle polveri che quindi tendono a rallentare il moto quindi noi ci riferiremo esclusivamente a un punto materiale libero quindi un punto di massa m e per questo punto qui succede un fatto interessante diciamo dal punto di vista analitico succede che se uno va a scrivere la legge di Newton quindi in questo caso d su di t della quantità di moto uguale a f sappiamo che questa è la legge che vale per un punto materiale libero soggetto a questo tipo di forze quindi diventa d su di t di mv uguale meno f del modulo di v volte v ecco noi ci riferiremo anche sempre a questo tipo di forze che sto incorniciando adesso così non facciamo dipendere la posizione se uno vuole fare inserire poi la posizione vabbè si complicherà il problema e ci saranno delle incognite in più con questa scelta vedete che l'equazione qua che sto sottolineando in verde si semplifica perché vedete che diventa un'equazione del primo ordine in v quindi praticamente uno può assegnare semplicemente una v di t0 uguale a v con 0 vettoriale cercare di risolvere se m è costante se m è variabile bisogna aggiungere una legge che dica come evolve la massa e una volta trovato v di t allora solo a quel punto uno può trovare la posizione del punto semplicemente integrando integrando x punto di t uguale v di t trovato precedentemente con x di t0 uguale x con 0 ecco diciamo i due problemi si separano a differenza di quanto succede nelle forze posizionali in cui in generale l'accelerazione e la posizione sono insieme nella stessa equazione qui invece le cose non stanno così ecco allora una caratteristica interessante di queste forze è che quando c'è un punto solo e quando ci sono solo loro allora il moto è sempre rettilineo infatti se noi calcoliamo mv vettore a se ritorniamo un pochino indietro a quello che abbiamo fatto in cinematica del punto allora mv vettore a è ovviamente v vettore ma 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 è uguale a f e quindi viene lo scriviamo in questo modo qua torniamo un attimo indietro nella derivata questo scriviamo ma anzi scriviamo pure così che è più facile siccome ma è uguale a f e f è uguale a f per il modulo di v volte v ecco si vede immediatamente che questa quantità è 0 ecco allora se questa quantità è 0 a parte i casi banali in cui v è 0 in cui a è 0 in realtà questo dice che v è parallelo ad a ecco ma se v è parallelo ad a allora il moto è rettilineo ok e l'avevamo visto in cinematica in ogni caso è molto facile da dimostrare un'altra cosa interessante è che riguarda il momento angolare allora il momento angolare sempre riferito alla situazione di un punto solo prende un punto O in generale qualunque poi quando ci sono delle forze centrali diventa un po' speciale ed è definito come R vettore P cioè R vettore Mv ecco andiamo a vedere adesso che l'aggiunta di una forza viscosa non cambia la direzione del momento angolare quindi se P è soggetto a una forza viscosa allora KO diviso il suo modulo supponendo che sia diverso da 0 non così se il modulo di KO è diverso da 0 allora si sa che questo qua è costante allora vediamo un po' per dimostrare questo possiamo usare la formula che abbiamo usato nelle forze centrali ricordate che avevamo dimostrato che D su di T di R di T diviso il suo modulo era uguale a R di T vettore R punto di T vettore R di T temibile prodotto vettoriale diviso R di T alla terza questa formula è vera per R qualunque non necessariamente il vettore posizione non abbiamo mai fatto ipotesi su questo l'abbiamo usata come vettore posizione quindi adesso prendiamo R di T proprio uguale a KO di T e quindi osserviamo che la derivata di KO di T scusate KO di T diviso il suo modulo è uguale a tutto il papardello che viene fuori quindi KO vettore KO punto vettore KO di nuovo diviso il modulo di KO alla terza sottintendo il T per non stare a fare complicazioni varie benissimo allora proviamo a capire che cosa fa KO punto perché questo è il passaggio cruciale allora devo fare la derivata rispetto al tempo di R vettore mv vabbè ma è se volete il vecchio passaggio dell'equazione cardinale perché qui questo viene v vettore mv che fa 0 e poi viene più R vettore ma a ok quindi viene R vettore F di v scusate F funzione del modulo di v volte v che scrivo per semplicità così R vettore F v ecco F non è una costante ma a livello diciamo così come vettore potete pensare che sia come una costante allora quanto fa KO punto vettore KO e beh guardate viene R vettore F v tutto vettore R vettore mv già ma ho il supposto m costante naturalmente allora qui questo fa m F che sono degli scalari e poi viene R vettore v vettore R vettore v allora questi due vettori sono uguali e quindi fa 0 il prodotto vettoriale è nullo e quindi questa quantità è 0 e questo dice che KO è costante scusate mi sono di nuovo la la direzione di KO è una costante quindi per esempio come applicazione ecco supponiamo che di avere per esempio una forza centrale agente su un punto sempre un punto da solo di massa m costante quindi una forza che chiamiamo fc tanto per dire che è centrale e poi quindi questo affare qua si muove e poi c'è una velocità e poi c'è una forza viscosa questa che adesso facciamo in blu ecco questa è la forza viscosa come vedete è opposta alla velocità allora se ricordate quando fv è 0 e il momento angolare non è 0 il moto è piano il moto avviene in un piano ecco allora per effetto di questa proposizione che abbiamo appena visto il moto in questo caso sarà sempre nello stesso piano perché perché noi sappiamo che andiamo a calcolarci la derivata rispetto al tempo di ko in questo caso qua quindi sappiamo che non ci sono reazioni vincolari per cui viene mo più psi o allora questo cosa vuol dire psi o è 0 mo si divide in due parti la m dovuta la mo dovuta alla forza centrale più perché si somma ovviamente più la mo dovuta alla forza viscosa per definizione di forza centrale la mo dovuta alla forza centrale è 0 per cui viene esattamente mo dovuto alla forza viscosa quindi il punto diciamo così ha un ko che evolve soltanto in base diciamo sarebbe costante se non ci fosse la forza viscosa e se c'è la forza viscosa evolve soltanto in relazione al momento della forza viscosa ma allora possiamo applicare la legge per il risultato precedente e quindi dedurre che la direzione di ko è costante quindi una volta dato il quindi siccome la direzione di ko viene determinata per esempio dalla dalla posizione iniziale dalla velocità iniziale a questo punto viene determinato un vettore e il piano sappiamo che se questo vettore non è 0 il piano è perpendicolare e quindi questo fa vedere che in realtà il piano continua a essere perpendicolare anche se naturalmente l'orbita non sarà più chiusa per esempio la traiettoria potrà essere completamente diversa nel caso in cui la forza abbia diciamo l'espressione più semplice possibile quindi f uguale a meno lambda v con lambda maggiore di 0 una costante allora uno può calcolarsi la derivata rispetto al tempo del modulo di ko e basta non della direzione cioè la derivata di m rho quadro teta punto sempre nel piano in cui il moto avviene cioè supponiamo che il moto sia piano come prima per esempio supponiamo che uno abbia una forza centrale un piano definito e così via allora se la massa è costante uno può portarsi fuori questa quantità e farsi la derivata ecco questa derivata è interessante perché viene allora viene 2 rho rho punto teta punto che è la derivata di rho quadro più rho quadro teta due punti e questa quantità qua è interessante perché è m rho per 2 rho punto teta punto più rho teta due punti questa quantità l'abbiamo già vista è l'accelerazione trasversale è la a teta in coordinate cilindri che si intende che sono quelle che abbiamo usato sempre quindi questa quantità qui è uguale a m rho a teta e quindi è rho f teta e questo fa rho per meno lambda v teta che fa meno lambda rho v teta è rho teta punto quindi viene rho quadro teta punto perché v teta è rho teta punto e quindi viene meno lambda fratto n per il modulo di ko è l'ipotesi che teta punto sia positivo perché il modulo di ko a quel punto deve venire positivo e allora c'è dentro meno teta punto ma a questo punto c'è il meno teta punto anche all'inizio quindi in entrambi i casi questa è l'espressione allora poniamo h uguale lambda su m che ovviamente è una quantità strettamente positiva e abbiamo determinato che la derivata del modulo di ko funzione del tempo è uguale a meno h modulo di ko funzione del tempo e da qui segue immediatamente integrando minore o uguale scusate no uguale sbagliato e quindi da qui integrando segue esattamente che il modulo di ko funzione di t è uguale al modulo di ko iniziale per e alla meno h t meno t zero quindi si ha un decadimento esponenziale del modulo del momento angolare a zero quindi la situazione è che nel nostro piano il piano rimane lo stesso però il modulo la direzione e il verso di ko rimangono gli stessi però questo ko tende a zero sempre più rapidamente addirittura esponenzialmente quindi diciamo esattamente che cosa succede dipende adesso questo punto dalla forza centrale che uno ha perché se io so che m ro quadro z punto tende a zero non so esattamente se ro tende a zero perché potrebbe essere anche che z punto aumenti però poi diciamo ci sono altre considerazioni che si possono fare per esempio per esempio dal teorema dell'energia cinetica io so che la derivata rispetto al tempo dell'energia cinetica è uguale alla potenza delle forze applicate quindi siccome la potenza delle forze viscose è strettamente negativa se la velocità non è zero in questo caso anche ro punto al quadrato più ro quadro teta punto quadro decresce e vabbè a questo punto poi bisogna mettere in gioco il tipo di forza quindi siccome in questo caso vabbè la forza noi la conosciamo bisogna scusate la forza centrale il tipo di forza centrale volevo dire e vabbè comunque quello che uno si aspetta probabilmente bisognerà fare un'analisi un pochino più accurata e che le orbite per esempio le orbite ellittiche della della legge di gravitazione universale diventeranno delle spirali che tendono a zero sicuramente se se teta punto rimane limitato e e ro tende a zero allora questo sarà quello che succede un altro caso interessante è quello in cui uno ha una forza costante F chiamiamola F zero e poi ci aggiunge una forza viscosa del tipo quelle che consideriamo noi F del modulo di V per V se ricordate dalla cinematica avevamo osservato che nel caso della sola forza costante succedeva che il vettore V vettore a con zero era costante era un vettore k costante nel caso nostro invece poniamo k uguale V vettore F zero fratto m che sarebbe l'accelerazione dovuta alla forza costante più v vettore vettore di modulo di V volte v fratto m che sarebbe la forza viscosa che chiaramente è zero quindi questo è uguale a vettore F zero fratto m quindi questo termine non contribuisce perché c'è v vettore v che fa zero allora adesso proviamo a calcolare la derivata rispetto al tempo di x meno x con zero scalare k dove k è questa quantità qui che appunto che adesso è uguale anche a v vettore F zero su m ora questa quantità sarà naturalmente derivata del prodotto quindi viene v di t scalare k più v scalare k appunto ma v scalare k è come dire v di t scalare v vettore F zero su m che quindi è zero come nel caso che avevamo visto in cinematica però qui c'è anche v scalare k appunto ma k appunto è la derivata rispetto al tempo di k ma k è v vettore F zero su m e quindi questo fa v scalare devo fare la derivata del prodotto ma in realtà qua F zero è costante quindi come fare v vettore a v scalare a vettore F zero su m che è uguale a v vettore a scalare F zero su m e questo è zero perché ora l'accelerazione è F zero su m per quanto riguarda la forza costante più uno su m F volte v scalare F zero su m e basta e questo è zero perché quando si tratta quando si si decompone quando si sviluppa rispetto a questi tre fattori viene zero perché il F zero è ripetuto quando invece si sviluppa rispetto a questi tre viene zero perché a questo punto è ripetuto il v e quindi x meno x con zero scalare K è costante e questo dice che il moto è piano ed è sta nello stesso piano determinato dalla sola forza costante come era abbastanza intuitivo da 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 accettare ecco allora diciamo per fare un esempio un pochino più elaborato possiamo pensare di generalizzare il moto dei gravi quello quello di Galileo aggiungendo una forza costante una forza viscosa cioè prendere una massa costante quindi prendere mv punto cioè ma uguale meno mg e 2 in un piano quindi la forza peso e di aggiungere la forza viscosa meno lambda v quindi sostanzialmente stiamo generalizzando il moto dei gravi quello che dava origine a una parabola e adesso andiamo a vedere che cosa succede quindi sappiamo già che il moto starà nello stesso piano determinato dal moto dei gravi quindi il piano è 1 e 2 e andiamo a vedere che cosa succede qui come si diceva si può semplificare cominciamo a introdurre lambda uguale mh cioè introdurre h come lambda su m e così in questo modo l'equazione diventa v punto uguale meno g per e 2 meno hv che possiamo separare nelle due componenti quindi m v punto x sarà uguale a meno h v x e m v punto chiamiamola v1 v2 ma visto che abbiamo usato v1 e 2 mv punto 2 uguale a meno g meno h v2 vedete che sono perfettamente separate però sono un pochino diverse una ha il peso e l'altra no come succede anzi qua possiamo scrivere addirittura abbiamo detto h quindi è così perfetto allora andiamo a integrare la prima la prima è facile quindi v con 1 di t è uguale a v con 1 0 per e alla meno h t meno t 0 quindi questa si integra perfettamente al volo e v con 1 0 è semplicemente la la componente 1 della velocità iniziale per risolvere la seconda facciamo un rapidissimo cambio di variabili chiamiamo u con 2 uguale v con 2 più g su h quindi u con 2 punto è uguale a v con 2 punto che è uguale a meno g meno h v2 v2 è u2 più anzi meno g su h e quindi fa meno g meno h u2 più g e questi qua si semplificano quindi morale u con 2 verifica la stessa equazione identica di v con 1 ecco quindi avremo che u con 2 di t è uguale a u con 2 0 e alla meno h t meno t 0 e naturalmente u con 2 0 anzi t 0 sarà v con 2 0 più g su h e quindi possiamo andare a sostituire e viene v con 2 0 e alla meno h t t t 0 più g su h e alla meno h t meno t 0 t infine quindi siccome u con 2 era v con 2 più g su h abbiamo trovato l'espressione di v con 2 di t cioè cioè u con 2 0 e alla meno h t meno t 0 più diciamo anzi scriviamo meno g su h che viene meglio meno g su h per 1 meno e alla meno h t meno t 0 ecco questa espressione qui che da v con 2 mostra una cosa che c'è un termine che tende a 0 a crescere di t e un termine che tende a meno g su h a tendere di t quindi la v con 2 tende a una costante che si chiama anche velocità limite ed è la velocità alla quale l'accelerazione diciamo così è 0 dovuta si bilanciano la forza peso e la forza viscosa mettete v punto uguale a 0 e trovate v uguale alla velocità limite ecco quindi abbiamo determinato le due equazioni due equazioni in rosso che danno l'evoluzione della velocità in questo problema adesso con un po' di pazienza si possono determinare le posizioni e lì c'è un fatto solo un fatto interessante allora la posizione x si integra si trova integrando la v con 1 diciamo così andiamo a ricopiarsela ecco ecco x di t quindi sarà x 1 di t sarà x 1 0 più l'integrale di questa quantità che risulta essere v 1 0 fratto h se non ho sbagliato i conti 1 e alla meno e alla meno h t meno t 0 e poi x con 2 è più complicato x con 2 di t sarà x 2 0 e poi bisogna integrare l'espressione più complicata quindi c'è un termine che viene dal meno g su h che è quello più interessante meno g su h t meno t 0 che è un moto rettilineo di forme e poi c'è un termine invece che è più complesso ed è h v 2 0 più g fratto h al quadrato per 1 meno e alla meno h t meno t 0 che è qualche cosa diciamo così che ha di nuovo una costante a cui tende ecco questo è il moto non è facilissimo vedere cosa succede se h è uguale a 0 perché se h è uguale a 0 siccome abbiamo diviso per h questa cosa qui non si può allora sostituire direttamente bisogna fare uno sviluppo in serie bisogna usare per esempio lo sviluppo in serie di e alla meno h t meno t 0 come 1 meno h t meno t 0 più h al quadrato mezzi t meno t 0 al quadrato e poi ci sono altri termini ecco allora a questo punto qui se uno va a fare tutti i conti si vede che viene effettivamente una parabola si vede che viene effettivamente una parabola che differisce un pochino diciamo viene una parabola del tipo dove la y scusate la x con 2 viene x 2 0 più v 2 0 per t meno t 0 che sarebbe il termine che uno si aspetta Galileano meno g t meno t 0 al quadrato mezzi poi c'è un termine correttivo un meno h v2 0 fratto 2 per t meno t 0 al quadrato quindi viene anche in questo caso e se si mette uguale a h uguale a 0 adesso torna la parabola Galileana quella giusta se invece si tiene h e si trascurano i termini di ordine elevato in h c'è comunque una prima correzione ma questa non è la cosa più interessante la cosa più interessante è un'altra la cosa più interessante viene da questa prima da questa prima equazione quella sulla x che mostra che quando t tende all'infinito mostra che il limite per t che tende al più infinito di x con 1 di t è finito è x 1 0 più v 1 0 fratto h quindi vuol dire che nel nostro problema abbiamo che la x non supera mai una certa quota scusate una certa scissa limite che potremmo chiamare x infinito eccola qua supponendo che parto dalla posizione 0 mentre invece la y cioè la x con 2 tende tranquillamente a meno infinito perché vedete che c'è questo termine quanto meno c'è questo termine qui che lo butta a meno infinito quindi vuol dire che la traiettoria in questo caso a differenza della parabola è una cosa che parte come una parabola per esempio mettendo la velocità iniziale come come si capisce dal disegno e poi però ha un asintoto verticale quindi l'effetto della della viscosità cambia radicalmente come uno si aspetta il il comportamento asintotico e quella parabola sarebbe stata questa e dove non c'è nessuna limitazione alla x si possono trovare anche delle approssimazioni proprio della della traiettoria ma queste non le andiamo a vedere perché adesso ci aspetta un compito ben più importante che è quello dei moti armonici